Io sono Boris, sono Presidente dell'Associazione Velabili, ci occupiamo di vela per ragazzi con disabilità sia mentale che fisica. Io ho un'esperienza di vela lunga circa 30 anni, soprattutto con barche in mare, barche da crociera. Mi sono avvicinato alla deriva una decina di anni fa e qui a Lugano svolgiamo soprattutto attività con deriva e con barche adattate al mondo della disabilità. Attualmente l'Associazione Velabili dispone di quattro imbarcazioni tipo ANSA 303, sono delle piccole imbarcazioni di tre metri, costruite appositamente per la disabilità soprattutto motoria, che ovviamente vanno bene anche per i disabili mentali. Di queste ne abbiamo appunto più state quattro e con le quali stiamo svolgendo quotidianamente l'attività. Inoltre disponiamo anche di un'imbarcazione più grande, un RS Venture, si chiama, che è una barca per norma dotati ma adattata al mondo della disabilità, quindi con dei seggiolini all'interno dove le persone possono stare sedute senza dover cadere da questi seggiolini in caso di sbandata e che hanno tutti i rimandi, anche le ANSA come l'RS hanno tutti quanti i comandi rimandati in pozzetto. Attualmente seguiamo circa una quindicina di persone, sia uomini che donne, sia bambini che adulti. Non c'è una fascia d'età particolare, diciamo che oltre i dieci anni, a partire i dieci anni si possono tranquillamente svolgere l'attività. Abbiamo anche persone che hanno superato i 70 anni di età, quindi diciamo è aperto a tutti quanti. Per quanto riguarda la formazione dei coach, quindi degli skipper, delle persone che accompagnano i ragazzi in barca, ci sono dei requisiti particolari. Innanzitutto quello di avere delle buone capacità di vela, quindi essere già persone che hanno esperienza sia con barche grandi che con derive e poi chiediamo che venga fatto un corso specifico, soprattutto quelli di Special Olympics, dove si impara ad avere un certo atteggiamento nei confronti delle persone con disabilità. Lo scopo principale è quello di dar loro la sensazione di essere autosufficienti all'interno di un'attività sportiva e la barca lo permette, nel senso che possono timonare, possono gestire le vede in modo autonomo e loro di questo ne sono molto fieri e contenti. Quindi diciamo questo è il risultato finale che noi cerchiamo di raggiungere con ognuno e spesso e volentieri riusciamo. L'associazione dell'Abili svolge molte attività con Special Olympics. Abbiamo partecipato a giochi regionali, abbiamo appena partecipato, appena conclusi domenica, i giochi nazionali a San Gallo e che si svolgono i nazionali ogni quattro anni, quindi esattamente un anno prima dei mondiali che si tengono quest'anno, l'anno prossimo presenti a Berlino. Con la partecipazione ai nazionali a San Gallo abbiamo potuto qualificarci per poter partecipare ai mondiali di Berlino. E saremo presenti con due equipaggi, quindi due imbarcazioni e i team saranno formati da una persona normodotata e una persona disabile.